uè stelle ma con la veronetta cosa hanno fatto 1 a 0 non ho visto la partita ma mi hanno detto già che una partitaccia proprio una partitaccia la violetta ha cambiato modulo ha messo titolare florenzi wow coraggioso eh una partitaccia vero una partitaccia e stelle vabbè ma se non vinci questa che cazzo devi vincere stelle hai capito e noi attenti domani all'Empoli perché con l'Inter è sempre una finalina è una finalina la finalina hai capito è la finalina attenzione cazzo la cintura eh io mi dimentico perché sono un vecchio un vecchio giovane rincoglionito allora stelle ora giocano chi chi i gobbi giocano adesso guarda devo vedere perché sono stato fuori le robe di poi fa un caldo cioè fa un caldo di quelli che mamma 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 ma c'è basta adesso sì è bella l'estate ma non a 35 gradi ogni giorno dai figa ciao stelle allora eh i belanisti tutti felici ora devo vedere qualche qualche video se sono incassati o sono felici fammeli vedere fammeli vedere scappati di casa